Ciao ciao ciao! Prima che arriva la polizia! Come rifiuto? Questa è la cosa per il vino perché te l'hai dato il mio avviso. Venite tutti provanti, chiudete la porta. E lasceranno il troppo! Ci sono poche parole a dire in occasioni come queste. Da volte suoniamo gli ultimi concerti per difendere gli spazi sociali. Domani c'è una manifestazione a Bologna per difendere l'Atlantide. Molti di voi ci sono stati alcuni di me. Ho suonato l'ultimo concerto che è bellicoso. Va bene. Domani andiamo a difendere lo spazio che vogliono giudere. Oggi ne apriamo un altro. E così andare avanti. Via! Oggi ci sono stati alcuni di e di alz Laura. Talia non ci sono stati all'intenia nel mio luogo. Com Attra questo non ci sono stati al nome. No ci sono stati alcuni di giudere. Lo spazio divino maggiare maggiare. All'inizio di una mangiare della gente. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. 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 e a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.